Salve a tutti. In questo video vorrei fare una specie di sommario sul bagaglio culturale dei TDG. Ma prima di iniziare il video vorrei rinnovare i miei inviti. Guardare il video fino alla fine, lasciare like, iscrivervi se non l'avete già fatto, guardare anche gli altri video. Avete presente il fatto che a scuola con più di 4 insufficienze si viene bocciati? Bene, è da un po' che avrei voluto fare questo video ma ho aspettato di farne altri per poter fare poi un resoconto dei video fatti. Se TDG fossero a scuola, passerebbero l'anno, si beccherebbero dei debiti o verrebbero bocciati? In italiano non passerebbero, come ho spiegato nel video sulle manipolazioni nella Bibbia, loro non sono capaci di comprendere correttamente un testo scritto in italiano. In storia nemmeno, come ho mostrato nei video sugli errori storici, sulle profezie, sull'accuratezza biblica e su Michele Serveto, perché loro manipolano i dati storici per i loro fini, o meglio, il corpo direttivo manipola i fatti, e i proclamatori a causa loro conoscono una storia manipolata e adulterata. In greco non passerebbero, come ho spiegato infatti nel video sulle manipolazioni bibliche e sulla traduzione in greco moderno. La loro Bibbia infatti è tradotta malissimo dalla lingua greca, perché stravolge il significato originale, facendo dire al Nuovo Testamento che Gesù non è Dio mettendo il nome Geova dove non c'è scritto, Anzi, nel Nuovo Testamento non compare nemmeno il tetragramma, come ho spiegato nel video sul nome di Dio, in latino rischierebbero, perché la loro Bibbia usa come fonte anche la vulgata latina, come moltissime altre Bibbie. Questo accade perché noi, non avendo il testo ebraico risalente ai tempi di Gesù, visto che il codice masoretico risale all'anno 1000, noi dobbiamo anche tenere in considerazione la traduzione in greco, cioè la settanta e la vulgata latina, tradotta anche esse dall'ebraico, dall'aramaico e dal greco. In scienze naturali certamente prenderebbero l'insufficienza, come ho spiegato nel video sui TDG e la scienza, visto che loro credono che la scienza ufficiale nega l'evoluzione, cosa non vera ovviamente, e sono convinti che le trasfusioni facciano male alla salute e che si possa sopravvivere anche senza. Ho dedicato tre video alle menzogne dette dai TDG sulla filosofia, ma ci sarebbero altre cose da dire a riguardo, quindi non uscirebbero vive nemmeno a un'interrogazione di filosofia. In alcune scuole si studia anche psicologia, sociologia e pedagogia. Ci sarebbero mille cose da dire sul rapporto tra TDG e psicologia, sia dal punto di vista teorico che pratico, ad esempio riguardo cosa pensano della psicoanalisi, o delle psicoterapie, o di cosa vicano la psicologia sociale e la sociologia dell'indottrinamento e del plagio nella setta, o di cosa vicano gli psicologi e gli psichiatri dei danni psicologici della vita nella setta. Ci sono altri video a riguardo, non mi permetto di dire altro, per il momento. A riguardo anche la pedagogia avrebbe da ridire su come i bambini TDG vengono trattati nella setta per cui al liceo delle scienze umane e all'istituto professionale servizi sociosanitari TDG prenderebbero il debito anche in queste materie. Inoltre in questo istituto professionale fanno anche gene e cultura medico-sanitaria, cosa che va certamente in conflitto con la questione delle trasfusioni. Quindi se un TDG andasse al liceo classico prenderebbe l'insufficienza in italiano, storia, greco, filosofia e scienze, e forse anche latino, quindi bocciati. Se andasse all'istituto professionale servizi sociosanitari prenderebbero l'insufficienza in italiano, storia, scienze, scienze sociali e igiene, per cui verrebbero bocciati. Al liceo scientifico e al linguistico invece non c'è il greco, per cui potrebbero cavarselo col debito in italiano, storia, filosofia e forse anche latino. Al liceo delle scienze umane però rischierebbero, perché il debito lo prenderebbero sicuramente anche nelle scienze umane e sociali, per cui senza il debito in latino uno potrebbe farcela. In tutti gli altri, secondo i miei calcoli, potrebbero cavarsela con due o tre debiti nella peggiore delle ipotesi. Sarà forse per questo che ai TDG è fortemente consigliato non andare alle scuole superiori, se possibile, o perlomeno di non prendere il liceo, soprattutto il classico? Quelle scuole sono prodotto del diavolo oppure il loro insegnamento non permetterebbe ai loro adepti di diplomarsi? O non sarà forse che l'unico modo per diplomarsi sarebbe quello di mettere in discussione l'insegnamento della setta, o potrei anche sbagliarmi, magari un TDG potrebbe tranquillamente diplomarsi con cento e l'ode al classico pur non sapendo il greco, l'italiano, la storia, la filosofia e le scienze naturali e forse anche il latino. Per il momento è tutto, alla prossima!